Ciao a tutti e bentornati in Tessilan News, anzi, benvenuti nel mondo del glamour parigino. Immaginate di passeggiare lungo la Senna con la torre Eiffel che illumina la scena. Ecco, quest'oggi vi presentiamo un articolo che ha proprio quell'aura di fascino e raffinatezza. Parliamo infatti del set Eiffel in tutte le sue meravigliose varianti, ma analizziamolo nel dettaglio. Ed eccolo questo meraviglioso set Eiffel. La forma trapezoidale che è ispirata sicuramente anche alla struttura proprio della torre Eiffel e questa trama a rete conferiscono a questa borsa un look unico e davvero inconfondibile. Ma analizziamo quelle che sono le misure. La forma, lo abbiamo detto, è trapezoidale con questa trama a rete. La base, eccola qui, misura 30 cm di lunghezza, mentre l'altezza della borsa è di circa 24 cm. Esclusi i manici che invece hanno una lunghezza totale di circa 26 cm. Quindi è una praticissima borsa con tutti i fori in lungo la parte, diciamo, esterna di questo set Eiffel, che hanno un diametro di 0,4 cm. Il tutto termina con questo delizioso cinturino che poi confluisce nella chiusura a girello. Eccola qui. E questa invece è l'apertura della borsa. Davvero molto grande, capiente, ma non in maniera esagerata. Disponibile davvero in tantissime versioni. Igor, Lizzi, Vipera. E quindi analizziamoli tutti nel dettaglio e ammiriamo questo meraviglioso set Eiffel. Grazie a tutti. Dettagli in argento, trama raffinata e grandezza perfetta. Questa borsa, ammettiamolo, non è solo un accessorio, ma è una vera e propria opera d'arte. Una sorta di frammento della romantica Parigi da indossare ogni giorno. Da un evento elegante a un pomeriggio di shopping. Insomma, il set borsa Eiffel sarà una vera e propria compagna di stile. Un set dalle molteplici sfaccettature. Potrete inserire una semplice sacca già pronta in tessuto. O magari realizzarla voi con i filati quali il Thai Sublime, il Thai Sublime Luxe, Super Thai o Thai Skinny. Magari con qualche punto e rilievo da mettere in risalto, proprio facendogli passare attraverso questa trama che presenta proprio il set Eiffel. Unite il design, la funzionalità e un tocco di magia parigina. Et voilà! Il gioco è fatto. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi, di seguirci su tutti i nostri social e noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!